I quadristi, domenica, finita gara 2 della QX3, Valeri, primo posto in gara 1 dopo una lotta serratissima con Sciolfi, primo posto in gara 2, bello in solitaria. Valeri, una tenuta fisica veramente spettacolare, un controllo della moto, raccontaci la tua gara 1 e la tua gara 2. In gara 1 sono partito non proprio bene, infatti mi ha passato Sciolfi e mi sono stato molto combativo, mi sono stato molto aggressivo, però sono riuscito a arrivare in avanti. In gara 2 invece sono partito secondo, beh l'ho passato dopo e Davide Sciolfi ha ceduto un po', anche io, però almeno di più e mi sono arrivato. Allora va bene! Complimenti, veramente un'ottima tenuta fisica e veramente una grande scuola per passare alle categorie superiori. Grazie. Valeri, veramente una gara importante, i nostri grandi complimenti e un arrivederci alle prossime prove dell'italiano a settembre.